Sarà inaugurata sabato 11 novembre alle ore 17 presso il Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina la mostra dal titolo Roba Stagnata Antiche Ceramiche di Burgio. La mostra è organizzata dall'Associazione Culturale ProMuceb, Museo della Ceramica di Burgio, dalla Fondazione Orestiedi e dal Museo delle Trame Mediterranee con il patrocinio dell'Osservatorio per le Arti Decorative in Italia Maria Cascina dell'Università di Palermo e del Comune di Gibellina. L'esposizione artistica è curata da Vito Ferrantelli, Enzo Fiummetta, Sergio Entorre e Maria Reginella. Nelle vetrine della mostra saranno esposti manufatti in maiolica, nella quasi totalità inediti, di varie tipologie della prima metà del XVII secolo, realizzati dalle botteghe di Burgio, nei quali si può leggere la stretta connessione con la produzione calatina coeva. Alla fine del XVI secolo, infatti, un gruppo di ceramisti appartenenti alle più importanti botteghe di Caltagerone si trasferì a Burgio, influenzando in maniera profonda la produzione dei ceramisti locali. I calatini insegnarono ai ceramisti di Burgio, dove peraltro esisteva già una produzione di terracotte per usi domestici, l'impiego degli smalti e dei colori. Nacque così a Burgio la ceramica artistica, con il suo periodo aureo, che si estende tra la seconda metà del XVII secolo e la prima metà del XVIII, grazie anche ad una ricca e raffinata produzione di vasi da farmacia. La mostra resterà aperta e dunque visitabile al pubblico fino al prossimo 16 gennaio 2024. Come si ricorderà, l'esposizione è stata preceduta da una interessante preview che si è tenuta a metà luglio. Il Museo delle Trame Mediterranee, istituito nel 1996 dal senatore Ludovico Corrao, esprime attraverso le collezioni esposte la molteplicità dei linguaggi artistici che rappresentano degnamente la complessa storia culturale del Mare Nostrum, contesto di riferimento delle opere esposte. All'inaugurazione saranno presenti tanti appassionati ed esperti del settore, guidati dagli organizzatori e dal presidente della Fondazione Orestia di Calogero Pumiglia. I dettagli nelle parole del presidente dell'Associazione Culturale Promuceb, Vito Ferrantelli. Roba Stagnata è il titolo della mostra di Antiche Ceramiche di Burgio, che inaugureremo domani nel prestigioso Museo delle Trame Mediterranee di Gibellina, nelle cui vetrine sarà esposto un cospicuo numero di opere, molte delle quali inedite, che raccontano un periodo specifico della produzione ceramica, quello che va dalla fine del XVI a tutto il XVIII secolo. Si tratta di opere di proprietà di collezionisti privati e io approfitto di questo momento per ringraziarli di cuore per la loro generosa disponibilità. La mostra sarà aperta fino al 20 di gennaio e io credo che essa costituisca un evento davvero interessante e imperdibile, soprattutto per chi ama il mondo delle arti decorative.